Chi hanno inciso il legno, qui un'altra storia, questo è un marciapiede di Milano. Noi guardiamo questa immagine e subito ci viene una sorta di idea di composizione. Ma quanto sono bravi questi artisti che non soltanto sono capaci di un disegno di una enorme qualità, però che riescono anche a abbinare, a comporre queste figure in una sorta di costruzione spaziale meravigliosa di che noi ormai siamo ancora sorpresi e meravigliati. Però quando si è stata fatta un'analisi con il Carbono 14, hanno capito che queste immagini non sono state fatte nello stesso tempo, non sono contemporanei tutti, sono una costruzione fatta in tempi molto spostati gli uni degli altri, spostati tutti gli anni, tutti gli anni, trenti gli anni. E questa è qualcosa che ci interessa. Perché io mi né in città di dire, ti tengo a presto vedere che questa è la nostra vicenda.